Salve a tutti amici. Amici e amiche, oggi vi propongo qualche aggiornamento veloce dall'Ucraina, poi alcuni video che ho trovato interessanti e che rappresentano un po' questi giorni. Iniziamo quindi con gli aggiornamenti dal fronte e per farlo cosa c'è di meglio dei giornali italiani per informarsi? Penso che Repubblica oggi abbia dato il meglio di sé. La domanda, come sempre, è perché? Perché, leggo il trafiletto che dice Kiev è rimasta senza uomini e Putin nel Donbass non ha più ostacoli. Poi l'articolo continua, e vabbè, quello che dice è che ci sono delle, più o meno in linea sull'andamento in generale, ma ci sono delle imprecisioni clamorose. Non si parla mai di fonti. Insomma, se una persona è un po' attenta e fa l'analisi del testo, si accorgerà da sola che ci sono parecchi problemi in questo articolo. Inoltre, si fa passare l'idea che per attaccare la regione di Kursk, l'Ucraina abbia dimezzato i suoi uomini togliendoli da sud-est, dal Donbass. Il che non è vero, perché i reparti che sono stati dislocati nella regione di Kursk si erano preparati da mesi a questa operazione. E tra l'altro vengono dall'area di Wojciask, qui, dove stavano ottenendo già dei risultati, ma la situazione lì era molto, diciamo, bloccata da mesi, quindi hanno fatto presto a spostarsi di pochi chilometri per raggiungere Kursk, ripeto, in un'operazione pianificata da mesi. Insomma, se gli ucraini avessero spostato 2000 uomini dal Donbass alla regione di Kursk, attraversando tutta l'Ucraina con mezzi, uomini, logistiche, insomma, sarebbero stati visti dall'intelligenza russa, che, voglio dire, per quanto difficitaria se ne sarebbe accorta. E soprattutto questa avanzata di cui parla Repubblica, avanzata inarrestabile verso Prokosk, sarebbe avvenuta prima, invece si è intensificata negli ultimi tre giorni. Mi collego quindi alla critica di Mayakosk, che fra l'altro colgo sempre l'occasione di ringraziare per il suo enorme lavoro sulla mappa, vi passo il link in descrizione, è davvero in gamba. Sono d'accordo che l'articolo su Repubblica racconta una versione artefatta e distorta della realtà, mentre, se proprio dobbiamo parlare di quest'area di cui parla la testata giornalistica italiana, quello che possiamo dire, e bisogna sempre considerare fra l'altro il beneficio del dubbio, possiamo dire che gli ucraini stiano di fatto ripiegando dalla linea dei bacini idrici per riposizionarsi più a ovest. Insomma, se da una parte è vero che in questi tre giorni i russi hanno intensificato lo slancio in quest'area, è anche vero che proprio per questo stanno subendo il numero maggiore di perdite. Il contatore delle vittime russe in questi giorni è schizzato alle stelle, in appena una settimana se ne contano oltre 5.000 di caduti. È una delle cose che dobbiamo sempre ricordare, fra l'altro, della strategia ucraina in questa sua guerra difensiva e che non fa come la Russia di mandare avanti gli uomini nel tritacarne. È successo sempre in questi due anni e mezzo che quando i reparti si rendevano conto di non riuscire a tenere la posizione, arretravano e preferivano salvaguardare le loro vite. E questo è molto importante da capire perché un soldato vivo può combattere domani. Insomma, arretrare di qualche chilometro per riposizionarsi è una scelta saggia in questo momento, mentre continuano a infliggere perdite devastanti alle ondate su ondate di mezzi e uomini russi. Fate caso, per esempio, alle date di questi report che vi mostro e dei video che arrivano dalle ricognizioni e dalle immagini satellitari. Tutti questi attacchi sono concentrati negli ultimi tre giorni, l'ultimo proprio questa mattina con l'artiglieria ucraina. E anche da parte russa si nota il tentativo di colpire nelle retrovie le posizioni ucraine più che sulla linea del fronte. Un'altra cosa che possiamo notare, semplicemente controllando le date degli attacchi russi, è che hanno intensificato gli attacchi aerei su tutta la linea del fronte e la linea di confine. Questo andamento in generale sembra quindi confermare che l'azione ucraina nella regione di Kursk è riuscita ad intensificare l'attività russa, a forzarla, come dicevo nel video precedente, con la mobilitazione di almeno cinque brigate prese dal Donetsk e mandate appunto nella regione di Kursk, fino addirittura a impiegare i fanti di marina della flotta stanziata a San Pietroburgo. Quindi vediamo anche una massiccia reazione da parte dell'aviazione russa, che in questi giorni sta attaccando le opposizioni ucraine, le città ucraine e le città russe stesse a sud di Kursk. Di questo ne parleremo dopo. Parlando quindi proprio della regione di Kursk e dell'avanzata ucraina, fra l'altro, fra ieri e l'altro ieri, Deep State ci mostra il consolidamento delle posizioni ucraine, che continuano a guadagnare terreno per un'estensione che ha ormai superato i 1300 km2. Io avevo accennato ai tre ponti colpiti a ovest, sul fiume Seim. Questi attacchi sono stati confermati, ci sono le immagini e non solo. Le forze aeree ucraine hanno colpito con successo anche i pontoni provvisori che l'esercito russo stava costruendo. Da questo articolo di Nexta TV vediamo per esempio un'immagine che esemplifica quello che sta succedendo, ma parla di qualcosa come 3000 soldati russi tagliati fuori in questa sacca che è lunga una decina di chilometri. In queste foto poi vi mostro due report interessanti. La prima è di questo soldato, un addetto alla postazione Iris T, che ci mostra sul fianco 45 target distrutti con 44 missili impiegati. Può sembrare strano, ma il motivo per cui ci sono più target distrutti che missili impiegati possono essere due. Uno è che un missile sia riuscito a colpire due bersagli che volavano molto vicini. Se il primo missile è esploso, l'onda d'urto dell'esplosione ha distrutto anche il secondo missile. Può succedere se volano vicini. L'altra ragione potrebbe essere, come dice lo stesso articolo, che questa unità Iris T ha spesso lavorato insieme all'aviazione ucraina, quindi potrebbero avere delle condivisioni di bersagli. Poi, in quest'altra immagine, è un trafiletto che parla dei risultati ottenuti dalle forze di difesa missilistiche ucraine in un giorno, ieri, si ferma al 20, questa mattina. E dice, in un giorno 25 su 26 droni da ricognizione Shahed sono stati distrutti, sono i classici piccoli droni da ricognizione di origine iraniana per intenderci, due KH-59, che sono missili da crociera russi, e un Iskander, un altro missile da crociera. Poi vi passo alcuni aggiornamenti che vengono dal complesso petrolifero nell'area del Rostov. Qui devo fare una rettifica perché il video di ieri avevo parlato di 24 ore di incendi che potevano essere stati contenuti. In realtà, devo correggermi perché lo stabilimento continua a bruciare. In queste immagini vediamo la portata dei danni che un piccolo drone ucraino è riuscito a fare. Passiamo adesso alle dichiarazioni, quelle belle, della televisione e dei politici russi. Lavrov, il ministro degli affari esteri russi, che non chiedetemi perché, ma a me ricorda tanto Emilio Fede, non lo so, forse per la lingua felpata o qualcosa del genere, ha dichiarato dopo l'invasione ucraina dalla regione di Kursk non possono esserci più negoziati con Kiev. Ma dai, quindi prima c'era la possibilità di fare negoziati, è veramente interessante. Per citare il trafiletto, il ministro degli esteri russo Lavrov lascia intendere che se l'Ucraina lasciasse il territorio russo, il regime di Putin potrebbe tornare a tutto amore e gli unicorni per cui la Russia è famosa. E poi la rete 1, tipo Rai 1 russa, è sempre la migliore. Voglio dire, immaginate un esercito ostile che occupa il Molise e la giornalista su Rai 1 che se ne esce con una frase del tipo dobbiamo circondarli e distruggere tutto con bombardamenti a tappeto. E va bene, ok, che è il Molise, però non si fa così. Comunque, sempre per restare in tema televisione e media russi, perché così, insomma, lo sapete perché lo faccio, perché in questo modo un filo russo, un sostenitore di Putin, vede che passo anche le fonti russe e non può contestare quello che dico. Quindi, dedico un po' di spazio anche alle fonti russe. Stiamo parlando del comandante delle forze speciali russe impegnato nella regione di Kursk, Apti Aulidinov. In un appello televisivo dice Se i vostri figli di 18 anni, che sono già arruolati, non dovrebbero difendere la patria anche quando viene attaccata dal nemico e quando il nemico si trova sul nostro territorio, allora perché questo paese ha bisogno di te e dei tuoi figli? Quindi, è giusto, cioè, che senso ha, no? Cioè, non fa una piega. Perché uno dovrebbe fare figli se non per mandarli al fronte? In un'altra, invece, dichiarazione, sempre a Aulidinov, in televisione, penso sia intervistato da un reporter di guerra russo, o in qualche bunker, non lo so, dice I combattimenti nella regione di Kursk finiranno fra due, tre mesi, così come l'intera operazione militare speciale. Ok, interessante perché parla di due, tre mesi per scacciare, no? Gli ucraini dalla regione di Kursk e contemporaneamente i russi riescono anche a concludere l'operazione militare speciale, no? Cioè, un po', come devo dire, sono due pesi, due misure, no? Si dice, sono due cose molto diverse scacciare un esercito di 2.000 persone, 5.000 persone in una regione che ti ha invaso e concludere l'operazione militare speciale. Sono proprio due cose diverse. Ma a parte questo, lo stesso Aulidinov, anche in passato, ha fatto dichiarazioni del tipo che l'operazione militare speciale sarebbe finita a luglio. Ok, ormai siamo ad agosto, però fa niente. Io, personalmente, però, scusate, questo lo dico solo come opinione personale, personalissima, io vi sono fatto un'idea che questo personaggio, per dirla alla romana, sia un po' concazzaro. E poi arriviamo alle immagini dei soldati russi che ne approfittano per fare visite ai negozi di telefonia in cerca degli ultimi oggetti tecnologici più trend. Chissà se cercano anche le cover, quelle griffate. Bene, queste immagini hanno fatto un po' il giro del mondo, ma vabbè, insomma, stanno semplicemente razziando un negozio di telefonini. Comunque, prima di passare alla versione della narrazione ucraina, vi mostro qua questo sondaggio, sempre fatto da Nexta TV. È un sondaggio fra persone di tutto il mondo. Insomma, hanno risposto un po' tutti, da tutte le parti del mondo. La proposta del sondaggio è questa. Descrivi la Russia in poche parole. Primo, l'impero della menzogna. 220 like. È un gran mucchio di Russia. Cioè, è tipo la meme di Jurassic Park. 128 like. Al terzo posto non posso tradurlo in modo letterale perché non rende. In Italia abbiamo comunque lo stesso modo di dire, che più o meno è La Russia è un buco di Q. Lo. E poi tanti altri che sono molto, molto meno eleganti di questo, bisogna dirlo, come per esempio, vabbè, quasi Nord Corea, Alcol e Tecadenza, Zombieland, uno stato mafioso fallito. E su questo, per esempio, qualcosa si è mosso dentro di me. Voglio dire, su quest'ultimo commento, no, di stato mafioso, Faccio una domanda a voi che mi state ascoltando. Non avete sentito un poco di disagio? Voglio dire, no, la mafia non è italiana alla fine. Dovremmo avere i diritti d'autore su un commento del genere. Però, sia. Comunque, purtroppo, questo sondaggio ha sviluppato dozzine e dozzine di commenti. Non ne ho trovato uno solo pro-Russia, sarà quindi per un'altra volta. Passiamo avanti. Quindi, qualche report e dichiarazione da parte ucraina. Iniziamo con Zelensky, che dice Qualche mese fa, molte persone nel mondo, se avessero saputo che stavamo pianificando un'operazione come quella nella regione di Kursk, avrebbero detto che non era realistica e che si trattava dell'attraversamento del prosunto confine più rosso di tutti. Le linee rosse che ha la Russia. Tutti i concetti delle linee rosse della Russia sono andati in pezzi in questi giorni e da qualche parte vicino a Suja. Quindi, sì, è vero. È una cosa che tutti, molti altri analisti hanno detto. Voglio dire, no, tutti questi blef di Putin sul nucleare di questi anni, le minacce, il sostegno all'Ucraina, le minacce dell'uso delle armi in Ucraina, le minacce sull'utilizzo di mercenari in Ucraina, tutte queste minacce nucleari, insomma, si è visto che erano solo fuffa. Perché in questo momento ci sono soldati ucraini, nel territorio russo, che, voglio dire, per il proprio statuto nazionale, la Russia, c'è scritto che utilizzerebbe l'arma atomica se qualcuno violasse il suo territorio sovrano. Questo c'è scritto nel loro statuto, voglio dire. Quindi, voglio dire... Come si dice? Quando uno ha la coda di paglia, mi pare, no? Comunque, vedremo adesso cosa comporterà il fatto oggettivo che il cosiddetto tabù della linea rossa è stato infranto. Un'altra notizia, invece, che riguarda indirettamente il conflitto è che il progetto per la costruzione del gasdotto fra Russia e Cina è stato fermato. Fonte di stampa cinese. La Cina, in poche parole, non è d'accordo con il prezzo del gas ed è molto preoccupata dalla seconda tornata di sanzioni imposta dalle nazioni occidentali. E un po' ci credo, nel senso, no? Essendo una potenza economica ci tiene molto di più ai soldi e ai propri profitti piuttosto che a salvaguardare la nazione confinante. Comunque, altri tre video di quelli belli che arrivano dal fronte. In questo video vediamo un giornalista ucraino che raccoglie pile di pratiche di disertori dall'ufficio del servizio di reclutamento presso la città di Suja. Il trafiletto dice aiutiamo i cittadini che non vogliono combattere e morire per Putin. Aiutiamo questi russi ragionevoli. Nella regione di Kursk, invece, i soldati ucraini continuano a portare aiuti alla popolazione. In questo video una signora commossa abbraccia i soldati che le portano una scatola di viveri. E poi quest'altro video che mi ha davvero molto colpito c'è una signora anziana paralizzata che è stata lasciata sola in casa abbandonata con l'evacuazione della città. Il soldato ucraino entra in casa le porta del cibo e le dà dell'acqua le aiuta a bere e le chiede dove sono finiti tutti e lei dice che sono tutti morti e che, insomma, è stata lasciata lì. Insomma, è un video molto toccante e non ve lo posso mostrare non credo per le restrizioni di YouTube ma ve lo passo in descrizione se vi interessa vederlo. E poi, per concludere oggi un video davvero singolare non so come descriverlo sinceramente mi ha sorpreso moltissimo ma penso che chi di voi ha visto il film Pulp Fiction di Quentin Tarantino realizzerà presto cosa accade in questo video. Ok. Ci sono dei soldati ucraini che frugano in una sacca raccolta da un soldato russo e il titolo dice Trofei insoliti dei nostri soldati nella regione di Kursk. Il titolo di Kursk. Il titolo di Kursk. e che Bruce Willison è ovvio che stanno parlando di Pulp Fiction della scena con Bruce Willis che richiama quel personaggio che indossa quella maschera e niente come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino a qui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale alla prossima, un abbraccio